Da Bologna a Seattle. Da Bologna in Australia a Wunday. Vengo da Bologna e sono stata nel Montana a Lambert. Da Ferrara ad Alcalá de Henares vicino a Madrid in Spagna. Da Rimini a Utsinomía. Da Reggio Emilia a Turumba Australia. Da Ferrara a Dan Liri, Irlanda. Da Ferrara a Ramsgate in Inghilterra. Da Modena a Chengdu in Cina. Da Bologna a Viola Arkansas USA. Da Ferrara a Beustown Nova Scotia Canada. Da Bologna a Cambridge. Vengo da Bologna e sono stata sei mesi in Costa Rica dalla Quella. Da Bologna a North Carolina Stati Uniti. Da Faenza a Brisbane. Da Rimini a Londra. Da Bologna a Groningen in Olanda. Da Texas a Ferrara. Da Ferrara a Front Royal. Ah sì. Perfetto. Cioè almeno finora l'avevamo fatto. Sono tornato. Ho fatto un programma exchange di un anno in una scuola americana. Con WEP. Ho fatto un anno scolastico in Giappone. Ho fatto un progetto della WEP che si chiama Elpen Study dove alla mattina avevo un corso intensivo di inglese. Al pomeriggio facevo la UPR quindi la ragazza la pari. Sono stata tre mesi e ho frequentato una scuola tedesca. Ho frequentato una high school. Ho praticamente accudito i pand per due settimane. Chiudiamo del programma dell'oro da mangiare. Puliamo le gabbi e tagliamo il bambù. Ho fatto l'assistente della prof di italiano in una scuola elementare australiana. Programma di sei mesi in un liceo statunitense. Programma di un anno sempre exchange in un liceo statunitense. Con la WEP. Con WEP. WEP. Per crescere. Perché apri la mente, perché conosci nuove culture, impari nuove lingue. Ti dà una direzione di vita molto importante. Unforgettable. Dopo cinque anni dal giorno in cui sono partita ancora la ricordo e ancora è un'esperienza che mi serve all'università e nella vita. Partite ovunque, vi mandino, ovunque. Dimenticate i tortellini e embrace il peanut butter e partite e basta. Non ve ne pentirete. Torino. Milano. Odesso. Roma. Bologna. E poi Bologna. Da oggi in WEP c'è anche a Bologna. Dimenticate. Da oggi in WEP. 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 Grazie a tutti.